Direzione nazionale del PDL a Roma, Fini chiede a Berlusconi informazioni chiaramente sul caso Sicilia. Diciamo intanto che tutti i noti vengono al pettine, che la chiarezza premia sempre e che il compito di chi è di destra è quello di fare la destra, non di fare altro. Fini si è speso in questi anni a tentare di dare fascino e credibilità ai temi della sinistra e questo chiaramente ha determinato molte questioni. Adesso la chiarezza è d'obbligo, per cui il compito di noi, che siamo ex alleanza nazionale e siamo rimasti di destra, è quello di dare spazio, fascino e credibilità ai temi di destra. Con riferimento alla Sicilia, Berlusconi ha detto chiaramente che da martedì si occuperà direttamente e che la questione deve risolversi. La cosa più sorprendente è che Fini ne parlava come se il discorso non era il suo, mentre tutti sanno che è stato uno dei protagonisti della vicenda che l'ha agevolato e favorito per creare problemi al PDL e non per risolvere i problemi del PDL. Comunque io confido nella capacità di Gianfranco Miciche di darsi da fare insieme al PDL per trovare una soluzione unitaria che dia spazio a tutte le componenti per rilanciare l'azione del PDL. Il PDL è il perno della politica siciliana, il PDL deve essere il grande partito intorno al quale coalizzare il centrodestra, il PDL si è dimostrato leale rispetto agli alleati dell'Udc, mantiene la parola data e questo io ritengo che sia un grande investimento per il futuro. Presidente, lei ha lanciato l'idea della destra PDL, che cosa è? Intanto non è una corrente, perché non ne sento la necessità e non vedo perché burocratizzare una posizione all'interno del popolo della libertà. Vuole essere un laboratorio di idee, uno spazio culturale per dare appunto fascino ai temi di destra, che secondo me sono temi che parlano ai cittadini e soprattutto camminano con i tempi, sono temi di grande attualità, sono temi che dobbiamo saper rilanciare.